Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti.